Benvenuti a un nuovo episodio di InRisposta... Scombo! E oggi, signori, c'è una nostra nuova top ten! Mamma mia, che top ten! Idea della Chirone nazionale... Che hype! Che hype! Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo dei set, dei dieci set, più OP nella storia di Magic. Diamo un contesto, facciamolo subito, come set non si intende un blocco, ma una singola espansione. Esatto, quindi chiariamo subito e ne approfittiamo per pubblicizzare il Patreon, perché c'è una domanda del buon Mirko Minucci, molto interessante così per dare un bell'inizio scoppiettante alla puntata. Scoppiettiamo, vai, vai! Scoppiettiamo. La domanda di Mirko è, secondo voi, Wizard, quando pensa a un nuovo set, sa già che potrà essere un set OP, oppure molte volte hanno solo sbagliato a scrivere delle carte, senza rendersi conto del loro impatto sui vari formati? Eh! Ah, come rispondi? Caro Mirko, io credo che loro sotto sotto qualche cosa la sappiano. Cioè, è normale che quando stampi una carta come One Sapone Time, insomma, non è che pensi, vabbè, ma nessuno si accorgerà che è forte, no? Cioè, è anche normale che in certe altre carte forse si sono sbagliate e non hanno valutato l'impatto che determinate carte, mischiate con determinate altre carte, potessero avere nei formati eterni. Sì, sicuramente lo sanno, secondo me. Nel senso, quando vogliono fare un set spinto, immagino che lavorino per fare un set spinto. Parliamo di Trono of Eldraine. Quando è uscito Trono of Eldraine, è uscita anche la filosofia Fire e hanno detto, proviamo questa strategia di design. Poi, le cose sfuggono, perché comunque non è proprio un gioco semplicissimo. Quindi ci sta che ci siano degli errori da parte dei designer. Non credo che il ban sia ancora una soluzione che loro effettivamente vogliono. Anche se negli ultimi anni sono successe un po' di ban, giusto un paio? Io sono convinto che comunque questa soluzione del ban si ricorrerà sempre con più costanza. Ma spero che poi venga effettuato, come mi ero... Non so se l'ho detto in un mio video qui in risposta a scombo. Con una... ecco, la costanza va bene, che ci siano dei bann ogni anno va bene, che qualcosa si rompa. A me sta bene. La cadenza a me invece non va bene. Cioè io non posso vivere con la palpitazione al cuore che ogni studio un mazzo per un torneo e oltre a un po' lo bannano. No, cioè secondo me questo è sbagliato, dovrebbero rivedere questo sistema. Dateci il tempo, anche voi di Wizard, di sbagliare con le vostre cadi, di giocare i mazzi sbagliati con le vostre cadi. A meno che proprio, appunto, dovrebbero difendere tra i bann, quelli diciamo, come si dice, ricorsivi. Non c'entra niente, però, insomma, quelli che devono fare comunque ogni tanto è quelli che sono degli emergency ban. Di certo la regola di Cascala con Valky andava cambiata come emergency ban, T-Ball Trigger in Modern andava levato come emergency ban, però appunto il ban di Uro, secondo me, non è che Uro aveva rovinato il gioco, però aveva comunque sia reso il metagame, ripetiti, bla 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 bla. Ma lo sai, no? Sì, i soliti discorsi, io più o meno sono d'accordo su tutto, ma poi un altro episodio di In Risposta a Scombo. Diciamo che molte cose della scelta di spingere sulla potenza delle carte le rivedrete nei set che abbiamo scelto oggi. Infatti, tra l'altro, è bellissimo come questa domanda si collega, e questo discorso collega totalmente a quello che stiamo per fare, cioè la classifica, i 10 set più potenti della storia di Magic, e ragazzi, sono un sacco di carte bannate, ve lo dico prima, è pieno, 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 però se no non le avremmo scelte, no? Eh no, certo, l'abbiamo anche utilizzato un po' come indicatore. Detto questo, l'altra premessa che facciamo, non ci siamo concentrati sullo standard, ci siamo concentrati su quanto le carte vedono gioco tutt'oggi. Assolutamente. Questo è un metro che abbiamo utilizzato, e ve lo diciamo subito. Ed è, questa è una classifica aggiornata al giorno 14 marzo 2021, cioè noi abbiamo valutato questi set nella storia di Magic fino ad oggi, quindi se c'è un set che effettivamente ha fatto la storia, ma poi le sue carte sono diventate obsolete, non ce ne vogliate, non è incluso in questa classifica, anche se è il vostro set preferito. Potrei dire un future site, no? Visto che siamo in tema, pure con la puntata scorsa. Esatto. Che non ci sarà, quindi. No, beh, no, quello no. Spoiler, spoiler. Piccolo spoiler, partiamo spoilerando. Spoilerando, spoilerando. No, partiamo invece dall'argomento principe, no Fabri? C'è un set che noi chiaramente abbiamo escluso a priori, ma che avrebbe vinto a mani basse, perché gioca completamente un altro campionato. Quindi questo lo vogliamo dire. Fuori concorso, anzi fuori concorso. Fuori concorso, totalmente. Eh, alfa. Non lo mettiamo, signori. Paragoniamo Black Lotus a cosa. Non possiamo mettere. Atto, cioè, non possiamo... Black Lotus, Mock, Sanchester, Recall, Time Walk, non sono carte, non sono carte di magico. Sì, sì, sono carte di magico che in vintage si giocano, però non... Anche in old school, eh? Anche in old school, assolutamente, anche in old school. Però non ci sentivamo di inserirlo in una classifica. Cioè, sarebbe stato anche brutto per voi seguire tutto questo video e dire cosa avranno messo per primo. Perché era quello. È chiaro, ovvio. Lo scludiamo a priori ed è... Secondo noi è più interessante così la classifica. Dai, cioè, comunque, per parlare così velocemente di alfa, alfa in set che viene pubblicato ovviamente nel 1993. Tra l'altro, di recente, visto che Aaron Forsyth ha dato i numeri della tiratura. Sì, interessantissimo. Cioè, che ci sono meno Black Lotus del previsto. E quindi è ancora più raro. Infatti, il prezzo è ancora salito. Sì, deve ancora salire, non lo so. Se si parla di criptomonete, ha qui il bene rifugio, un Black Lotus di Magic. Detto questo, appunto, un set che esce proprio all'inizio di Magic, perché è il primo set di Magic. Lì sono stati commessi degli errori. E uno ricorda sempre il fantastico ciclo delle carte che fanno tre. Quella rossa fa tre danni. E ancora si vede il gioco, si chiama fulmine. Quella bianca cura tre vite. Povero bianco. Ma lo sai che il bianco è diventato il mio colore preferito? Perché è talmente sfigato che ormai ho deciso che il mio colore preferito di Magic è il povero bianco. Bello. Io ti facevo più un mago nero a te, però... Ma sai, forse è più sulla mia persona il bianco. Comunque. Dicevamo, il bianco cura, il nero, vabbè, non si sa perché al tempo, rampa il mana, rito scuro da tre mana, il verde da più tre, più tre, crescita a giga, più tre, più tre, e il blu a uno. Pescate le carte. Che così. Strano perché il blu non fa mai cose strane, rotte. Diciamo che hanno iniziato da lì anche a darci la direzione di come Magic sarebbe andato negli anni, però, ripeto, è un evidente set che non si poteva utilizzare, non si poteva mettere. No, decisamente. Però possiamo iniziare. Possiamo iniziare? No, 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 scusami. Menzione onorevole. Dobbiamo partire dalla menzione onorevole. Non mi interessa riattento. Menzione onorevole, vai, quale? È assalto. Set a cui io sono legato tantissimo. Ho provato a insistere con Simo a mettermelo decimo, ma alla fine ho ceduto, perché obiettivamente in assalto l'unica cosa che spicca ancora oggi, e spicca tanto, sono le fetchland. Sì, assalto era in verità un set che o andava messo, io glielo ho detto a Fabri, non era il menzione onorevole, sarebbe dovuto essere primo, perché fondamentalmente noi questo discorso non l'abbiamo fatto nella puntata delle terre, adesso lo facciamo brevemente qui, tutti i formati dove sono presenti le fetch sono formati incredibilmente potenti. Perché? Perché sono le fetch che permettono ai giocatori di costruire dei mazzi terribilmente potenti. Quindi, siccome assalto però ci ha dato le fetch, ci ha dato poco altro di carte che poi siano rimaste, cioè nel senso è chiaro, ragazzi, non valutiamo il commander, noi valutiamo il competitivo, ma anche il commander non è che è rimasto molto di assalto. Cito solo Patriarch Bidding, che è una delle mie carte preferite, ma... Esatto! Carta da commande. Insomma, Piledriver, è una carta molto più di assalto, che comunque, insomma, sicuramente ha fatto la storia del competitivo, però fondamentalmente ci sono le fetch. Le fetch sono, ripeto, le carte. Senza le fetch non esiste formato potente, tant'è che Pioneer, proprio per evitare che i giocatori facessero delle cose che Wizard vuole contenere, è nato con le fetch bannate, no? Quindi abbiamo deciso di metterlo nella menzione onorevole. Già. E poi passiamo, invece, finalmente alla top 10. Ma partiamo proprio... Pam! Rapidi! Con un ritorno, non il ritorno al ritorno di Ravnica, ma il primo ritorno a Ravnica. Questo è complicato. Come si chiama il ritorno di Ravnica? Non lo so. Alligians. Ravnica Alligians. Beh, faccio fatica con tutte queste Ravniche a ricordarmi i nomi. Comunque è il set di sciamano. Facciamo così, è più semplice. Sì, Wizard of the Coast rivisita la sua amata Ravnica, che è la città delle gilde. Si ripresentano quindi le dieci gilde che abbiamo imparato a conoscere con i loro nomi, Orzov, Golgari e così via. Quindi le carte bicolore di quei colori sono ovviamente le carte più importanti del set. Tra queste esistono delle carte che sono arrivate tuttora nei nostri raccoglitori, vengono ancora giocate in tutti i formati, in tutti i formati. Una in particolare no, neanche in Legacy, che è sciamanole dal mago. Che però si gioca, cioè è legale in Pioneer. Che è bellissimo, è legale in Vintage, bannata in Legacy, bannata in Modern, legale in Pioneer. Perché? Perché non ci sono le fetch. Non ci sono le fetch. Carta incredibile con le fetch. E non abbiamo solo quello. Esatto, vai, vai. Ma io stiamo... Abbiamo BTE, che i giocatori di Arena la conoscono, almeno i giocatori di Historic, la conoscono molto, molto, molto bene. Bannata, sospesa, riportata, BTE, perché non dovesse farli in 3 emissari, che non mi sembra una carta leggera, anche se recentemente sentivo, sai, però non è molto potente, perché esce di Company, non è bella. Però quando ti fanno turno 2, BTE, BTE, Grul, quello che mena, non mi sembra che sia proprio conto di tutto. Infatti, fa cose, fa cose per due mana, fa parecchie cose. E un altro drop interessante a due, è il Goblin Electromancer, che ha... su di questo è possibile creare che i tipi scomodi, o amati, o odiati, tipo Storm. Questo va secondo me. Carino, mi piace che stai partito con scomodi, poi amati, odiati. Sì, ho dovuto ritrattare, così. Volevi... Ti ho visto che stavi camminando sui Carboni Ardenti. Comunque, da questo set viene pure Abrupt Decay, che è una premium removal di tutti i formati, anche se in modder si sta giocando molto meno, però il Legacy è giocatissimo, ovviamente, è incounterabile, ragazzi, e rimuove qualunque cosa. E un'altra carta che mi piace citare, che è una carta che io sono legatissima, è Voice of Resurgence, che mi piace tantissimo, sta ripetendo un minimo di gioco in Pioneer, però la vorrei vedere in historic, onestamente, non credo che rompa il formato, peccato che con l'antology non sono stati coraggiosi. Poco. E un'altra carta che voglio citare da questo set è Sphinx Revelation, che in historic c'è, non si gioca, che però è una carta che, quando fu legale in standard, quante ne ha raccontate quella rivelazione della Sphinx, no? Sì, sì, sì. Ma, cioè, l'hanno messa anche in historic. Sì, 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 l'ho detto. E alcuni, scusami, mi sono perso, perché stavo segnando. Però, no, oggi ci ho giocato, me l'hanno giocata contro. Ah, hai visto? Ogni tanto, secondo me, in un paio di copie, in UV control. Ma ci sta, è una carta che io adoro, personalmente, insomma. Bene, direi, partiti col botto. Si sale, si sale, vai, vai. e torniamo un po' indietro nel tempo con Antiquities. Mamma mia, set meraviglioso, dal flavor speciale, perché quando uscì, era una delle prime espansioni di Magic e voleva appunto riportare nell'antichità dei manufatti particolari, un'espansione di artefatti, un'espansione di terre, e, beh, ci regala delle cartine, non da poco, no? Una su tutte, direi che, insomma, è Stripmine, che c'era chiaramente insensata, tant'è che è bannata nei formati dove si potrebbe giocare, è bannata. Vi ricordo che Stripmine è wasteland senza la condizione di non-basic, quindi c'è, in senso, la Cali spacca la terra. Poi c'è Michelle Workshop, che anche lì, insomma, stiamo sul terreno di una terra abbastanza insensata, e poi che c'è? Beh, c'è il candelabro, che abbiamo citato. Candelabro e Donnus? Mi pare che l'abbiamo già citato. Dove? No, no, forse no, un lapsus. L'abbiamo messo. Ancora non abbiamo fatto la classifica degli artefatti. Allora forse ne avevamo parlato mentre decidevamo la classifica degli artefatti, ho fatto confusione. E poi abbiamo Torre, Miniera, e Centrale. è lì ti volevo. Io lì ti volevo. Ho fatto, tra l'altro, un video, vi invito a, insomma, a recuperarlo, giovedì sul mio canale, proprio sul, si può prendere in giro i giocatori di trono, che, insomma, è una cosa che Wizard è successa, un tweet, è una cosa interessante, comunque anche a livello di marketing, di, diciamo, social network. Però, ragazzi, le terre di Urza, come fai a non mettere Antichitis in questa classifica se ci sono le terre di Urza? No, esatto, esatto. Che sono legali in pauper e sono oppressive, quel mazzo in pauper è oppressivo. In modern, fanno di tutto. Strano che, in Legacy, no, perché in Legacy sono ancora più potenti. Sì, è vero. Però, è una riflessione interessante il fatto che non si giochino in Legacy. Detto questo, carta che ti disinsegna a contare. Scusate, non è dissing. Un, due, sei, dai, si può prendere in giro il giocatore di trono? Eh, ma non ho ancora visto il tuo video ad oggi che registriamo e quindi non so la risposta. Io, nel dubbio, ho sempre memato su Tron, senza offeso amici di Tron. Va bene, il nono posto è fatto. Passiamo all'ottavo? Eh, passiamo all'ottavo. Che set. Mamma mia, qui mi vengono i brividini perché per me è il set più bello, cioè è proprio il set che mi ha fatto innamorare di Magic competitivo e secondo me è il set, uno dei set con il limited più bello della storia. questo lo diciamo lo dico anch'io sempre su in risposta scombo che è set che è set una delle ambientazioni più belle di Magic Innistrad e a breve torneremo su Innistrad ci sarà il ritorno al ritorno al ritorno anche su Innistrad con il doppio set non sappiamo ancora lupi, mannari e vampiri però che set è Innistrad? La prima Innistrad ci ha regalato le carte forse fra le carte più iconiche del formato modern non solo e non solo però Innistrad regala al mondo comunque un po' di storia chiaramente si sta parlando di un set uscito nel 2011 che inserisce nel flavor di Magic lupi mannari vampiri lupi mannari non so se c'erano già stati prima forse si comunque vampiri tutti i mostri non c'erano i bambi mannari sono contento che non c'erano e poi soprattutto appunto è la prima volta che vengono inserite le carte bifronte Innistrad è un set meraviglioso ma veramente ragazzi provate a scaricarvi mtg a farvi dei draft di Innistrad a vedere dei video dei draft di Innistrad perché capirete quanto può essere bello un set di questo tipo e all'interno di questo set appunto c'è una comune che forse insomma qualcuno ancora ricorda Delver of Secrets che comune è comune in tutti i formati forse in modern no è l'unico no dai ho visto no ogni tanto torna ogni tanto torna diciamo che non avendo dei forti manipolatori in modern non c'è però è la carta simbolo del legacy cioè del formato competitivo più potente che esiste di magic è la carta simbolo ed è una comune questo è stupendo ma poi Innistrad non è che porta solo lui Innistrad porta Snapcaster Mage che è stato ed è cioè una delle carte probabilmente più iconiche degli ultimi dieci anni di questo gioco Liliana del Velo che ancora si gioca ovunque Past in Flames che è giocato ovunque Games of Sand Raft che non si gioca in forma di eterni ma oh vai a dire qualcosa il maniaco il maniaco del laboratorio mica è scemo lui è sempre l'altra carta importantissima esatto e poi che altro c'è Olivia Voldaren te la ricordi certo meravigliosa meravigliosa la buona Olivia e abbiamo finito l'abbiamo detto sì sì abbiamo finito magari volevi dire qualcosa appunto ripeto su Innistrad sul tuo rapporto con Innistrad ti dico è stato il primo set dove ho acquistato un box con dei compagni universitari sì per draftare è stato emozionante la prima volta che avevo i soldi per prendere un box è stato anche il mio primo Grand Prix quello di Innistrad Limited proprio guarda veramente l'avrei messo primo se non fosse c'è roba un pochino peggio è ancora da salire torniamo un pochino indietro nel tempo con Tempest 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 chiaramente ragazzi Tempest è un set che ai giocatori nuovi anche i giocatori di Modern forse dirà poco è un set pubblicato nel 1997 è il primo set del blocco Tempesta tra l'altro però il set di Wasteland noi non potevamo non metterlo siamo d'accordo siamo d'accordo ti dico quando ho iniziato io quindi il 2001 era visto come uno dei set più potenti di tutti infatti alle medie il petalo di loto sembrava il Black Lotus Ancient Tomb era tipo la carta incredibile mettere due mana con una terra fuori di testa quindi ho un rapporto cioè sono molto legato in realtà a Tempest no io non lo conosco nel senso l'ho conosciuto solo tramite Commander perché essendo un giocatore di Modern quando io arrivo nel formato non so niente di queste carte poi piano piano recupero e appunto c'è Reflecting Pool che viene da Tempest bellissima carta Altar of Demencia che è una bellissima carta c'è Choke in Tempest Choke bella quando Wizard of the Coast anziché stampare creature rotte che piano piano ti levano la partita ma ci mettono dieci turni tipo Uro comunque stampava carte che dicevano ho vinto e Choke che per chi non la conoscesse è un incantesimo a tre che dice le isole non possono più stappare quindi è un verde e due in colore quindi tu avevi fatto le due spell stavi lì pronto quello ti fa Choke le win migliori quelle di Choke esatto poi c'è Intuition che è una bellissima carta comunque c'è Humility che vabbè è una carta un po' strana il commander si gioca vabbè si gioca tantissimo è una carta che ha un ruling particolare la leggiamo per dirlo a quattro un incantesimo due bianchi e due in colore dice tutte le creature perdono tutte le abilità e hanno forse costituzione uno uno e c'ha dei ruling molto particolari per dirlo perché funziona a seconda di entra prima questo poi entra una cosa che cambia i layer eccetera eccetera non scomodiamo il judge ma poi lo chiamiamo Jacopo ovviamente poi insomma se ne abbiamo bisogno di chiamiamo tra l'altro era il compleanno gli facciano gli auguri auguri anche qua su io scrivo su instagram ma chi se ne frega perché passiamo a un set che io amo amo ma che è anche tanto odiato dark steel che io volevo mettere primo pensate pensate poi Simone mi ha detto no io ho provato a piangere per favore non lo so abbiamo fatto la classifica nasce anche dal numero di carte che il set ha lasciato e dentro dark steel cioè le carte sono effettivamente potenti storiche e insomma alcune proprio importanti però non lo so non ce ne sono tante almeno quello che penso io poi dimmela tua ma allora a parte la storicità del blocco mirrodin che ci ricordo ci riporta un po' ai tempi nostri in quanto numero di ban d'emergenza lì è stato per me il primo magic da torneo torneino in negozio e quindi io ci sono molto legato ero il bambino di affiniti e quindi io quando sento affiniti sono contento e però sì obiettivamente come carte giocate abbiamo Fiala cartina così a caso a caso tuttora giocata in tutti i mazzi creature legacy modern multiformato anche in commander l'ho vista pure se monocopia Fiala Fiala Eterge di cosa parliamo una non comune così non comune la cosa incredibile è che era non comune questo effettivamente tra l'altro soprattutto per chi la sbustava perché poi si è ritrovato con 10 euro di carta e adesso anche di più ristampata a 20 milioni di volte ma mantiene il suo prezzo poi c'è l'arcbound ravager una delle mie carte preferite che lì ha fatto iniziare il delirio di affiniti saccheggiatore l'hai propuso che è arrivato chiaramente fino ai giorni nostri sempre come una delle carte più pericolose a cui stare più a te quando entra saccheggiatore devi pensare veramente 10 volte tu che lo giochi e 20 volte chi ci gioca contro perché di solito sei morto peccato che il bannati mox di opala abbia praticamente spinto ai margini questa cara non esiste più in modern questo secondo me è un peccato io sto buildando hardened scales in modern per giocare l'arcbound ravager capito capito questo ragazzo poi c'è un'altra carta interessantissima che è school clamp school clamp school clamp è forse per chi non lo sapesse uno dei primi emergency ban storici della storia di me proprio che non si erano resi conto che quella carta lì era senza senso la leggo perché la voglio leggere a 1 un equipaggiamento la creatura equipaggiata prende più 1 meno 1 quando la creatura equipaggiata muore pesca 2 pesca 2 si equipa 1 non si capisce perché wizard of the cost non aveva previsto che se io gioco una schiera di 1 1 insomma importante ogni volta che sposto school clamp da uno all'altro pesca 2 se quelli fossero delle pedine che magari ho fatto capito a 3 mana faccio 3 pedine poi a 1 mana pesca 2 a 1 mana pesca 2 o meno pesca 2 mi sembra forte sembra forte anche perché equipaggio una creatura forte anche non necessariamente 1 1 l'altro fa rimozione ovratta e tu comunque peschi una carta fuori di testa e poi all'interno di darksteel l'ho voluta mettere fino al sesto posto è colpa mia Fabri la voleva mettere più in alto ricordiamolo perché ci sono le spade secondo me le spade sono alcune delle carte più belle della storia di magic e darksteel è il set che ha iniziato la storia delle spade dando alle stampe spada di fuoco e ghiaccio e spada di luce e ombre queste due carte secondo me ripeto sono troppo belle per non venire citate anche se si giocano vabbè in commander ovunque però in formati competitivi si giocano poco si giocano sicuramente poco tra l'altro è molto probabile ragazzi che quindi questo è un set del ti ricordi l'anno aspetta lo leggo si del del 2004 pensate per finire il ciclo delle spade si dovrà aspettare fino a giugno 2021 l'uscita del modern horizon 2 è molto probabile non è sicuro che le ultime tre spade siano racchiuse in quel set super high ancora non è di super high super high è uno dei miei cicli preferiti della storia di magic ancora non è finito il ciclo delle spade e adesso una arriva su magic arena la più scarsa è vero la più scarsa però è comunque una signora carta la signora una signora carta prima di chiudere darksteel piccola citazione al fratello mirrodin che ha portato le terre artefatto che fan cose atog eccetera giusto ci sta mirrodin e darksteel vanno un po' insieme sicuramente darksteel è il set con forse il power level più alto di quel blocco ma adesso mi riceverò un botto di insulti ma così la sparo così ed è il motivo per cui l'abbiamo inserita al sesto posto ma torniamo ai giorni d'oggi eh finalmente tutti i giocatori di arena che stanno lì con le loro manine dicono ma quando citano throne of the drain quando è che citano throne of the drain adesso quinto posto signori magic arena è uscito è nei computer di tutto il mondo i ragazzi giocano buildano massi senza senso senza senso per creare questo nuovo ruling delle avventure cioè una carta che fondamentalmente sono due carte in una basta che non counteri la prima wizard of the ghost diciamo che sbaglia un tantino un po' di bilanciamento e dà vita a uno dei set più oppi della storia ma non solo per le avventure non solo volevo dire partiamo dalle avventure ok partiamo dall'avventura perché c'è di tutto in sto set c'è di tutto però le avventure sono le avventure poi ci sono tre carte che anzi qua tre carte tre carte che chiaramente non non hanno senso di esistere cioè se ci pensi anche una comune come ginger brute è una comune dal power level alto ma è tutto è tutto forte è tutto forte ma anche una carta meme tipo il 7-6 food che dice ah ma che cazzo infatti e intanto è una signora carta che vede un sacco di gioco in standard e infatti molti chiedono la rotazione anticipata di Eldraine sì perché tra l'altro è proprio cioè è una cosa che dico spesso Caldame ha delle carte bellissime delle meccaniche fantastici anche la meccanica party poteva vedere il gioco in questo standard eccetera ma è tutto funestato dalla presenza di Trono Veldraine Trono Veldraine le carte di Trono Veldraine le devi giocare Bonecrusher Giant non puoi format format defining non puoi giocarla se giochi rosso Ambercliffe che fai non la giochi dall'altra parte c'è la nuova Vendillion non mi ricordo come si chiama o Vendillion ah è il Brazenborough Grazie grazie mai mai ti giuro sempre andiamo Vendillion Brazenborough che quindi e poi andiamo a quelle forti andiamo a quelle forti stampare once upon a time io non so proprio non riesco proprio a capire la razio dietro una carta del genere e faccio veramente fatica a rendermi conto come si possa appunto pensare che quella è una carta ok di qualche tipo bella e poi si chiama once upon a time bellissima con flavor ma non è manca la più forte la più forte è Oko ecco Oko riprendendo la domanda di Mirko di prima Oko è un design sbagliato perché hanno detto la minus in realtà cioè il plus in realtà doveva essere una minus quello che trasforma in Elk lì è stato proprio un errore non credo di battitura ma concettualmente hanno ammesso di aver sbagliato ma Oko l'abbiamo già commentato quante volte abbiamo parlato di Oko abbiamo parlato troppo di Oko parliamo di Mystic Sanctuary recentemente bannato in Modern dopo appunto quasi due no nemmeno due anni in verità un anno e mezzo bannato in Legacy bannato in Pauper una comune 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 di Tron of Eldraine comune di Tron of Eldraine diteci voi ma ragazzi e siamo andati sui power level cioè nel senso sui formati del power level grosso dato uno sguardo al Meta Historic al Meta Pioneer guardate quante carte di Tron of Eldraine ci sono poi tornate da noi eh no guarda forse Tron of Eldraine poteva competere a rank più alti della nostra classifica però fermo che qui c'è qui la top 4 è una roba eh ma secondo me se le giocano tutte queste 5 se le giocano tutte sì secondo me sì perché comunque è vero che Tron of Eldraine è una ferita recente quindi forse siamo più fomentati però questo potevamo potevamo metterlo sopra al quarto ma oddio ma oddio no eh vediamo il quarto posto vediamo sto quarto posto vediamolo vediamolo il quarto posto Legends altro set già più che presente in risposta scombo si torna indietro nel tempo molto indietro nel tempo sta parlando di anche qui una delle prime espansioni subito dopo Antichitis Arabian Knights esce Legends io mi ricordo proprio quando uscì Legends in tutto il mondo anzi mi ricordo quando uscì scusate la versione italiana perché uscì successivamente le carte inglesi quando io ho iniziato a giocare nel 95 se non sbaglio già erano state stampate e che dire ragazzi vabbè io cito delle carte e tu le commenti ok Caracas forte tabernacolo della valla di Pendrel ma Caracas l'avevamo messa nelle terre no non l'abbiamo messa e ce l'avevamo criticata boh non lo so però c'è il tabernacolo quello l'avevamo messo il tabernacolo c'è fossato fossato mamma mia fossato che ricordi sempre quando Wizard aveva deciso che comunque con una carta si può vincere la partita due mana bianche due in colore incantesimo le creature senza volare non possono attaccare pensaci tu poi land tax che mi dici di land tax staples incredibile in commander e carta design così piccante no pendelaven bella pendelaven che gioco nel mio hard and scales mod vedi lo sapevo silver library incommentabile silver library ecco ti sei azzittito azzittito mana drain a due mana blu due mana blu come il counterspell countera e alla tua prossima fase aggiungi mana in colore pari al converted mana cost o mana value che dir si voglia della carta che hai counterato non so lo devo ridire no 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 però è interessante che hai già detto mana value io faccio una fatica ancora invece mana drain è una carta interessante perché ha cambiato il suo power level con un cambio di ruling perché mana drain all'epoca non era così forte perché c'era la regola del mana burn quindi tu se non riuscivi effettivamente a spendere il mana che mana drain ti dava subivi dei danni allora loro avevano fatto questa carta con in mente questa regola poi la regola del mana come si dice appunto del mana burn scompare e mana drain diventa un po' forte tant'è che bannata tutto effettivamente non ci ho mai pensato a questa cosa comunque staple incredibile presente in tutti i mazzi con mandar col blu tutti che altro catene i mefistofeli ci sono talmente tante carte ragazzi dentro quel set ma poi andatevi a vedere le leggende perché sono bellissime io sono innamorato di rubinia soul singer 5 mana bant sono innamorato perché ha dei miei colori bant credo sia 2-3 non mi ricordo forse costituzione tappi controlli creatura finché lei è tappata tac beh power level è un po' differente però rispetto alla carta che abbiamo citato però è carina dai comunque un sacco di leggende c'è Nicole Bolas la prima volta che appare appare qui la storia di magic passa da legends si si saliamo sul podio ci sali tu o ci salgo io ma salici tu dai sono un po' emozionato di questo podio allora la quando io ricomincio a giocare a magic è lo standard di in cui esce Scars of Mirrodin in quel momento escono le spade che sono degli equipaggiamenti e in quel momento all'interno del mondo di magic ci sono delle carte che effettivamente mi rendo conto che valgono un sacco di soldi e non capisco forse perché e delle carte che verranno bannate in standard dopo anni dopo tu hai citato esatto il ban di Mirrodin poi da lì in poi in standard non c'è stato nessun ban fino al ban di due signori un maschio e una femmina che hanno proprio modificato la concezione come magic fino ad oggi cioè mistica forza pietre e jace dei mine sculptor queste due carte fanno parte ovviamente di Worldwake Worldwake è un set stupendo ma veramente stupendo dal flavor meraviglioso in cui veramente tutte le carte quasi sono belle perché a livello di proprio come si dice di storia quindi a livello di lore trasporta il giocatore fino all'ascesa degli eldrazi quindi ti deve dare le armi per competere poi con la minaccia che verrà dopo e all'interno di Worldwake c'è mistica c'è jace the mine sculptor ci sono le manland per la prima volta le terre di colore animabili che fanno la storia di magic dello standard del modern ancora si giocano chiaramente c'è arbor elf che è una carta direi molto importante e viene da lì c'è l'occhio l'occhio di ucchino che non è una carta con un senso logico ovviamente e c'è una carta rara che da lì in poi definirà totalmente un formato cioè il formato vintage perché viene stampato in Worldwake lodestone golem che è interessantissima tra l'altro di che fa di che fa non me lo ricordo ah non te lo ricordo fa costare uno in più esatto quello basta finito non costare uno in più le spell all'opponent tutte le spell non artefatto quindi fondamentalmente permette a mazzi come shops di esistere o insomma non solo fai quella carta lì e tutto ciò che non è artefatto costa di più è una carta molto molto importante per il gioco senza dubbio però sì che tra l'altro per un periodo dove ho giocato in modern parecchio perché tu sei pazzo cinque anni fa in quel deck artefatto blu non so se te lo ricordi che era andato sì me lo ricordo me lo ricordo io non mi ricordo il nome non mi ricordo il nome vabbè lo scriverò per quelli di youtube gli altri esatto comunque c'è da qui viene il collare il basilisco che si è giocato per un po' si gioca ancora con ballista fa cose brutte da qui viene vabbè te tonic edge però si non è abissa al persecutor o la bella carta che viene da qua te lo ricordi è sempre world wake sì sì è sempre world wake sei mana no scusa quattro mana sei sei volare trample e non puoi vincere la partita è una creatura tu la metti in ove non puoi vincere la partita perché è super OP e quindi non puoi vincere la partita te la devi levare per vincere però mi sembrava giusto citarla sì interessante vai è qua torniamo ai giorni oddio in realtà sono passati un po' di anni però recente ormai due non tanti dai non tantissimi modern horizon ragazzi modern horizon modern horizon va messo qui nonostante non sia un set regolare di magic tutti quelli che abbiamo appena citato sono tutti set regolari modern horizon è un set speciale la prima volta che esce un set che non impatta lo standard ma impatta solo i formati non rotating tranne pioneer chiaramente non impatterà pioneer l'uscita di modern horizon 2 abbiamo comunque voluto mettere che c'è modern horizon è proprio il sinonimo di OP è proprio cioè le carte buttate lì come se fosse astrolabio tiè a uno peschi e fixi il mana per sempre basta che è una terra neve bannata di recente anche ovunque bannata di recente in legacy era stata bannata prima in moda era stata bannata prima in paio ormai non esiste più la carta astrolabio chiaramente non esiste più all'interno di modern horizon c'è UGAC che design rovina completamente un formato quando l'espansione esce modern horizon porta le forze le nuove forze quindi force of negation force of vigor modern horizon porta Brennan 6 modern horizon port vabbè ma non lo devo dire io questo se no la gente mi nema esatto bravo porta urza porta tutte carte che effettivamente vanno a definire il formato ma in maniera pesantissima si ma che poi appunto si chiama modern horizon ma hanno definito legacy Brennan 6 è bannato in legacy certo non puoi giocare Brennan 6 in legacy chiaramente con wasteland e è un formato cioè un set anche qui consiglio a tutti assolutamente di farsi un accanto di mtgo per giocare il draft di modern horizon è il primo draft abbiamo detto nella scorsa puntata che ha tantissime keyword al suo interno e quindi dovete stare attenti a mille cose e quindi è stupendo spettacolare giocate modern horizon in draft perché è meraviglioso è un'esperienza bella cioè un set più o meno bello perché comunque è stato accolto col disagio e con l'inizio dell'ondata di ban che stiamo vivendo in questi ultimi anni di magic però e adesso siamo pronti eh adesso altro set che mi piace un casino è il set nuova pyrexia eh già primo posto primo posto per nuova pyrexia e come si fa secondo me questa classifica è stata una delle più difficili da redarne sono sincero però credo che nessuno questa volta nei commenti possa venirci a dire che la scelta del primo posto è sbagliata no non posso no perché la meccanica del mana pyrexiano è ovviamente senza senso questo non non c'è dubbio come senza senso Delve e Cance of Tarkir non è stato citato perché poi fondamentalmente porta solo quelle carte quelle con Delve e poi poco altro e il punto è che la meccanica del mana pyrexia ha portato delle carte talmente tanto iconiche alcune ancora si giocano che non non potevamo proprio non citarle no meccanica rotta non potevamo mettere il primo posto la meccanica più forte di Magic per con conto è Delve che ti richiede di spendere risorse della tua partita del tuo gioco che è fortissima e non sto dicendo che non è forte un conto è pagare punti vita cioè rende i tuoi punti vita una risorsa cosa incredibile incredibile sbagliatissima che ha originato dei mostri assurdi mostri non si vedeva un ban in legacy non si vedeva da tanto mental misstep viene subito il mental misstep rovina un formato come Modern Horizon appena è uscito la nuova pyrexia la gente si accorta mental misstep c'era qualcosa che non andava rovinato un formato bannato bannato anche in Modern subito chiaramente insomma è una carta a zero cioè a due vite counteri una spell che costa uno vuol dire il tuo avversario non gioca il suo primo turno direi che nei formati eterni è un po' potente Gitaxian Probe carta stupenda che io onestamente riporrei perché molte volte uno dice ma sai Gitaxian Probe non fa niente a zero peschi una carta fai una spell ricordatevi che ci sono i mazzi che fanno storm e guardi la mano dell'avversario che voglio dire buttalo io come effetto no dismember la removal che possono giocare i mazzi senza colore la removal di Eldatron perché ha uno in colore e due neri di Pyrexia quindi vuol dire ha uno in colore e quattro vite meno 5 meno 5 instant cioè non è roba continui tu spellskite spellskite base per proteggere i mazzi combo e non solo basati su creature che si attivava pagando due semplici vite butter school ma che bella carta madonna butter school karn karn karnone karnone proprio lui se che mana ti levo una terra proprio lui di terzo quel payoff per Tron esatto poco giocato ma mica abbiamo finito ancora ce ne sono ancora ce ne sono poi abbiamo il birting pod cioè me l'hai lasciata lì la mia carta perché avevo qua lo script ed era nascosto beh birting pod carta nel cuore di tutti di tutti nel cuore di tutti esatto cartona assurda assurda carta del tutto insensata tra l'altro all'epoca curiosità molto interessante birting pod è una carta che si fa a 4 mana 1 di pirexia verde e 3 in colore quindi vuol dire che si fa 2 vite e 3 mana quindi si può fare gerarca nobile secondo turno birting pod che era l'apertura dei mazzi che facevano birting pod in modern così facendo però costando 4 mana doggiava scusate l'inglesismo a brut decay perché costava 3 mana e 2 vite ma costava in verità 4 mana quindi a brut decay non poteva distruggerla è per questo che ha completamente scassato il modern tant'è che fu bannata ma non è finita no abbiamo anche melira melira molto calina è una carta interessantissima in vari combo adesso non so se vede ancora gioco in modern pro carta storica no adesso no però è una bellissima tra l'altro vede tantissimo gioco in commander poi surgical extraction che ovunque in qualunque side di qualunque formato ecc ma non abbiamo finito non abbiamo finito i pretori è vero ovvio che fai elish norm non la citi eh no certo poi vorinklex è di nuova pirex sì il primo vorinklex penso di sì però non è tanto forte sicuramente però è per citare carta moderna certo certo poi c'è una delle mie preferite pirex and obliterator viene da nuova pirex è vero è vero carta preferita da tanti carta preferita molto figa e signore e signori con questo primo posto ovviamente si conclude della nostra classifica dei set più op della storia di magic fateci sapere nei commenti se siete d'accordo o se invece avreste fatto qualcosa di diverso e che cosa avreste fatto di diverso e che dire volevamo concludere questa puntata che è la seconda post patron aperto ricordando che appunto abbiamo un patron per sostenere questo progetto ma soprattutto facendo i nomi di tutti i nostri sostenitori vero? assolutamente sì disarmante l'affetto l'abbiamo già detto signori grazie mille perché a parte che siamo dei boomer di patreon e quindi stiamo un po' imparando a utilizzarlo e navigarlo eh sì dateci un po' di tempo però grazie mille supporto incredibile ma c'hai tu la lista? allora abbiamo voluto fare questa cosa e mi chiedi se c'è la lista ma io ogni volta qui su questo sono boomer e dove cacchio la trovi? no 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 non lo trovo mai non si capisce eccomi niente non possiamo ce l'ho ce l'ho grazie ho il nickname l'ho trovata io al volo dammi il link così anche io posso dirne qualcuno va bene allora aspetta che te lo mando su discord apparirà il discord su youtube ma ecco che riappare a chirone c'è il link grazie ok allora uno per uno sì vai filippo dadomo grazie mille trader per caso grazie trader per caso mattia spaccia grazie mattia alessandro oh qui come si fa a leggere tutto il nome battaglia grazie cacchio giuseppe mastroto credo perché non me lo fa vedere tutto no mastro totaro mastro totaro ok perché me lo taglia grazie pg hamilton grazie mirco minucci abbiamo letto anche la tua domanda grazie per il supporto federico camoletto ti ringraziamo moltissimo per il supporto a questo podcast andrea appendino grazie mille per il supporto parente no a sindaca andrea gian varradu spero di aver letto bene il varraud varraud gian scusa chiedo scusa per la mia pronuncia assolutamente del francese credo non grazie mille grazie per il supporto leggere i cognomi è sempre una sfida garberoglio infatti è sempre una sfida marco musetti grazie mille per il supporto wing grazie mille per il supporto wing rage against demazzo macina bellissimo nick un air grazie mille per il supporto del nostro eroe marco mercatali grazie mille per il supporto alessandro menillo grazie mille per il supporto leonardo canazza grazie anche a te dario marchini grazie anche a te per il supporto nicola loda ti ringraziamo e ti lodiamo per essere uno scombista sgarbato grazie per il supporto milo porciani grazie mille per il supporto powerslave che è un disco degli iron maiden quindi grazie mille per il supporto grazie mille per il supporto gianluca destro grazie mille per il supporto teo rock grazie per il supporto stefano materazzi grazie mille per il supporto andrea barbata grazie mille per il supporto non leggere il prossimo perché sarà l'ospite chiaramente esatto quindi devi saldare e lorenzo bassi grazie mille per il supporto lorenzo e michele senza cognome grazie mille grazie mille per il supporto un generico michele da adesso in poi chiaramente ogni volta che si aggiungerà un patron lo diremo sempre ma meritavate assolutamente in questa puntata che speriamo sia apprezzata e insomma faccia breccia nei vostri cuori di essere tutti citati tutti tranne uno l'unico sconvista magnate che vedrete nella prossima puntata e scoprirete perché se siete dei patron prima se no dovete aspettare sette giorni e se siete dei patron scoprirete anche qual è il tema delle due canzoni di oggi che scegli tu Simo ah il tema scelgo io caspita non ero preparato allora fammi pensare un tema con la puntata odierna che i set i set cosa mi fanno pensare i set certo non mi fanno pensare niente il sette il tema della puntata è il sette mi dispiace dovrei trovare una canzone con il sette va bene tema sette sette è l'unico tema creatività manetta eh ho capito una gira tenetevelo buono se no che dobbiamo fare va bene direi che è stata puntatona intensa eh già sentiamo domenica prossima